Buon pomeriggio Ministro, faccio la domanda al manager Antonio Conte, vorrei chiederti se sei soddisfatto, quanto sei soddisfatto di questo inizio di mercato del Napoli con gli arrivi di Rafa Marina, di Spinazzola e di Buongiorno, volendo capire se erano anche profili che lei stesso ha indicato. Grazie. Grazie a tutti. C'è stata una grande occasione per Spinazzola, per Leo e l'abbiamo colta. Quindi diciamo che fin da adesso stiamo facendo un mercato giusto, il mercato che deve fare il Napoli e poi vediamo. Grazie Mister. Allora Cappella per la Rai e si preparano D'Angelo per la Gazzetta e Mandarini per il Corriere dello Sport. Buongiorno Mister. Volevo chiederle, in questi primi tre giorni, anche nei colloqui individuali che avrà avuto prima e anche in questi giorni, sono emerse le scorie dello scorso anno? Le percepisce? C'è un lavoro da fare mentale in questo senso? O pensa che i giocatori siano già riusciti a resettare tutto e a essere pronti a ripartire proprio da zero? Ma è inevitabile che le scorie della passata stagione non siano del tutto andate, ma è così anche perché non dimentichiamo che è stata una stagione particolare, veramente molto deludente, no? Sotto tutti i punti di vista. Per ciò che mi riguarda, ecco, ho cercato di metterci una pietra sopra con i ragazzi dicendo concentriamoci su quello che dobbiamo fare quest'anno, sulla ricostruzione che ci aspetta, però io ho anche detto non dimentichiamo, teniamola lì a portata di mano la stagione che abbiamo trascorso, dove c'è stata grande delusione da parte di tutti, chiaramente nessuno era contento, nessuno era soddisfatto. Abbiamo quell'esperienza, così come due anni fa avevamo l'esperienza di aver vinto e questo ci deve far diventare proprio gente più esperta da questo punto di vista, però quello che è stato in passato è giusto che lo si mette in un cassetto, ecco, però noi dobbiamo sempre sapere che nell'eventualità della difficoltà, nell'eventualità della ripetizione, degli stessi errori, sto cassetto lo tiriamo fuori e ci deve rinfrescare poi la memoria. Gazzetta dello Sport Buongiorno, in sede di presentazione aveva detto che sarà un Napoli con la faccia incazzata, questi occhi arrabbiati nei giocatori che erano qui lo scorso anno, li sta vedendo negli allenamenti, nella voglia di rivalsa, c'è qualcosa che vede, soprattutto chi ha subito quest'anno negativo, che sta mettendo in campo qualcosa in più secondo lei? Io ho trovato dei calciatori molto responsabili, ecco, nel senso che comunque e giustamente hanno capito gli errori che sono stati commessi l'anno scorso, perché non dimentichiamo che quando, come ho detto anche in sede di presentazione, quando abbiamo vinto due anni fa, abbiamo vinto tutti, club, calciatori, tifosi, l'anno scorso abbiamo perso tutti, quindi club, calciatori, tifosi, quindi ho trovato dei ragazzi molto responsabili, che comunque hanno fatto una riflessione e penso di trovare dei ragazzi con più esperienza, con più esperienza sicuramente, che vengono da un'annata di grande delusione, sicuramente un po' di delusione quando parlavano dell'anno scorso, l'ho intervista nei loro occhi, quindi è... e questa è una cosa positiva, perché significa che l'han sentita, ecco. Corriere dello Sport e si prepara Carlo Alvino per Radio Viskis. Salve mister, buon pomeriggio. Mi aggancio a quello che diceva Vincenzo prima, questa faccia incazzata è parsa a tutti, molto chiaramente, che un giocatore, importante, simbolo di questo Napoli, come Osimena, si sia presentato con questa voglia, con questa faccia, e ha colpito molto per tutta la serie di discorsi che hanno accompagnato la fase, diciamo, di arrivo, lui, qui, eccetera, è parsi molto dentro questi primi giorni, molto, insomma, a sua immagine e somiglianza, ecco. Guarda, io penso che in questa fase, dopo che io ho firmato con il Napoli, la fase più difficile è stata riallineare tutta la situazione e rimettere il club Napoli al centro di tutto. Questa, secondo me, è stata la cosa più difficile che abbiamo dovuto affrontare e, secondo me, è la situazione che già ci permette comunque di stare un passo in avanti. L'abbiamo fatto, merito di tutti, merito del club, merito dei calciatori che hanno capito alcune cose. Io mi sono espresso molto chiaramente, sai, quando uno poi si esprime chiaramente, ha delle idee chiare, ha una visione, difficilmente puoi andare contro, no, questo tipo di situazione. Quindi io penso che la cosa più difficile in assoluto sia stata quella di riallineare oggi il club, affinché torni ad essere protagonista il club. E poi c'è tutto il resto. Per ciò che riguarda Vittor, stiamo parlando di un professionista, prima di tutto stiamo parlando di un eccellente calciatore, soprattutto di punti di vista, stiamo parlando di un top player. Stiamo parlando di un calciatore che io ci ho parlato, e Vittor sa benissimo, no, che tipo di... Quello che ho detto anche in presentazione non è cambiato assolutamente niente, questo che si è chiaro. Ma detto questo, Vittor è un calciatore del Napoli. Lui sa benissimo che se è un calciatore del Napoli deve lavorare, deve avere il giusto atteggiamento, tutto quello che lui ha fatto in passato lo deve fare con me, anche se magari c'è questo tipo di accordo che ancora non sappiamo come andrà a finire. Quindi io ho trovato un ragazzo molto disponibile, un ragazzo col sorriso, un ragazzo che ha voglia di lavorare. Quindi per me quando ci sono poi queste situazioni, quello che avverrà dopo è tutto relativo. Conta il presente, conta oggi pomeriggio che ci alleneremo di nuovo, conterà il giusto atteggiamento che ognuno di loro avrà durante l'allenamento, nel rapporto con compagni, nel rapporto con me, con lo staff, con il club. Alvino e si preparano Repubblica, il mattino e il colore della sera. Salve mister, ho dato un'occhiata alle principali agenzie di betting, sempre molto attenti alle quote, e ho scoperto che il Napoli è dato come terza probabile squadra vincitrice dello scudetto. E' sentire comune che in tanti, tra opinionisti e detti lavori, danno il Napoli come anti-Inter. Fatto salvo che il Napoli è terminato al decimo posto, 40 punti in meno dell'Inter, 16 punti in meno della quarta posizione. Lei crede che ad oggi è stato annullato questo gap? O cosa pensa su questo sentire comune che c'è nell'aria? Sai, questo gap in due giorni secondo me è difficile annullarlo, solo due giorni di lavoro. Sicuramente il gap che è stato netto, no? È chiaro, perché l'anno scorso, se vogliamo proprio essere precisi, sono 41 punti di distacco dall'Inter, 22 punti di distacco dal Milan, 18 punti di distacco dalla Juventus, 16 dall'Atalanta e 15 dalla famosa zona Champions che stiamo parlando però della quinta posizione. Senza contare le due romane, la Roma e la Lazio, che sono arrivate a 10 punti sopra di noi. Questa è la realtà di fatti. Io penso che quando si fanno dei pronostici, delle previsioni, bisogna anche essere ragionevoli, altrimenti si rischia di cadere in qualcosa, non dico di ridicolo, però di qualcosa di non veritiero. Noi sappiamo che c'è questo margine di distacco rispetto all'anno scorso. In più è andato via un altro giocatore simbolo che è Zelischi ed è andato poi a rinforzare l'Inter che ha finito il campionato 41 punti in più di noi. Non sappiamo come andrà a finire il nostro mercato perché sapete tutti benissimo la realtà dei fatti che c'è un accordo che noi potremmo eventualmente perdere il calciatore più forte, quello che comunque ha fatto la differenza nell'anno allo scudetto. Quindi, ecco, io fossi l'agenzia betting, ma un pochettino, ecco, ma detto questo, a me non fanno paura a previsioni o se qualcuno vuole fare qualche giochino particolare perché vuole mettere pressione su di me, sulla squadra, questo assolutamente non è un problema. È sempre successo in passato, lo accetto molto volentieri. Noi quello che dobbiamo fare, lasciamo parlare agli altri, come ho detto, parliamo poco, siamo concentrati, sappiamo che l'anno scorso abbiamo fatto veramente un'annata assurda, ingiustificabile e abbiamo il dovere assoluto di pensare, ecco, di dover assolutamente migliorare, di tornare nelle coppe, possibilmente dalla porta principale. Questo deve essere il nostro obiettivo realistico e che oggi ne possiamo fare, altrimenti qualcuno oggi, ecco, mi dovrebbe internare, ecco, dovessi fare un discorso diverso. Repubblica a seguire il mattino. Eccomi qua, buonasera. Buonasera. Devo chiedere, quanto è importante per Conte questo periodo di ritiro e personalmente come lo vive Conte? Guarda, sono tornato a vivere un ritiro in mezzo alla gente, non mi capitava da tantissimi anni, quindi sicuramente ho provato un'emozione molto forte, sono tornato indietro nei tempi, quando ho iniziato comunque nell'Arezzo, nel Siena, nel Bari stesso, in cui andavi in montagna, facevi il pretiro. Quindi diciamo che ho riscoperto queste emozioni, sono emozioni sicuramente forti, che mi hanno riportato un po' al passato, a rivedere pure un po' il percorso che io ho fatto. Infatti noi nell'albergo che ospitiamo c'è una foto del mio Siena, quando poi noi abbiamo vinto il campionato di Serie B, dove noi siamo venuti a Di Maro a fare ritiro. Quindi diciamo che mi ha risvegliato delle emozioni e sicuramente mi stanno facendo molto bene. Mattino e poi il Corriere della Sera. Sì, salve mister. Le volevo chiedere, lei prima ha parlato della necessità per ricominciare di dover, lei ha dovuto riallienare club e società. Io sono curioso di comprendere che qual è stata la sua attività principale nei confronti anche del Presidente, della società, della dirigenza, ma anche nei confronti dei calciatori, perché si possa ricominciare lasciando da parte quelle scorie. Guarda, è inevitabile che dopo un'annata, diciamo fallimentare, no, che abbiamo avuto, perché non dimentichiamo solo 365 giorni fa, noi ci presentavamo con lo scudetto, no, sulla maglia. L'annata che c'è stata sicuramente è inutile che ci giriamo intorno. Cioè, è stata un'annata inaspettata, dove comunque chi più chi meno sono stati commessi degli errori. Quando succedono questo tipo di situazioni, ecco, prima io ho parlato, durante la presentazione, della gestione della vittoria, no? Quando vinci, io vincere intendo vinci, vinci o alzi una coppa o vinci lo scudetto, no? E' molto diverso rispetto a quando ti piazzi secondo, terzo, quarto, quinto. Quando vinci, comunque, cambiano tutte le dinamiche, perché ci sono grandi onori per tutti, ma al tempo stesso ci sono oneri. E bisogna poi cercare di maneggiare con cura l'anno dopo la vittoria, perché non è semplice, per tantissimi motivi. Così, così come, come ho detto questo, adesso non vado a ridire le problematiche, perché non torniamoci sopra, allo stesso tempo è difficile gestire anche la delusione. La delusione di un'altra fondamentale dove tu hai vinto lo scudetto l'anno prima e finisci decimo, ci può essere l'eccesso, no? In negativo. Ecco, diciamo che c'è stato un momento in cui c'era tanta negatività in tutta la piazza, dal tifoso al Presidente, che comunque, sai, il Presidente è stato il primo ad avere una grande delusione. Poi si possono dire tante cose, ma io l'ho visto profondamente deluso per cosa è successo l'anno scorso. E quando c'è tanta delusione, a volte si pensa che è tutto sbagliato, no? Così come quando si vince si pensa che è tutto giusto, e invece devi fare attenzione e correggere gli errori anche nella vittoria. Quando siano queste delusioni non si può pensare che è tutto sbagliato, perché non si può andare a un eccesso totale dall'altra parte e mettere tutto in discussione. Altrimenti ci vuole veramente una vita per ricostruire tutto. E quindi, diciamo che, da persone di calcio, da persone, ecco, anche che mi reputo seria sotto tanti punti di vista, l'analisi che ho fatta del Napoli era che comunque non doveva essere tutto preso e buttato e ricostruire tutto da capo. Perché non era giusto. Anche perché ci sono dei valori che non possono essere spariti nel giro di un anno. Ecco perché il lavoro di riallineamento di tutti, in cui chiaramente il Presidente ha svolto una parte determinante, principale, perché poi, torno a dire, io posso avere la visione migliore o il direttore sportivo la visione migliore e poi è il Presidente che deve comunque avvallare determinate situazioni. Io penso che si sia installato un rapporto molto diretto, molto diretto, dove io dirò sempre ciò che penso, sia che sia giusto sia sbagliato, ma sempre per un semplice motivo, per il bene del Napoli, del Napoli Calcio. Facendo il bene del Napoli Calcio faccio chiaramente il bene mio. Però ecco, l'obiettivo era non distruggere tutto, perché si rischiava di distruggere tutto per via di una forte delusione. Allora io dico no, cerchiamo di essere equilibrati, perché ci sono cose comunque di valore che devono essere mantenute, soprattutto se l'obiettivo è quello di tornare quanto prima ad essere competitivi e poi rimanerci nel tempo e non essere una meteora. Ecco, questo era il discorso del... mi auguro di essere stato chiaro. Corriere della Sera e si prepara in Roma. Mister, buon pomeriggio. Durante la conferenza di presentazione ha parlato spesso dell'equilibrio che deve avere la squadra. Il Napoli ha chiuso con l'undicesima difesa della Sera A. Che percorso, che lavoro si immagina per curare una squadra che tutto l'anno non ha mai tenuto le distanze giuste in campo come problema principale che è emerso e quanto possono aiutare la squadra e le caratteristiche di buongiorno? Sicuramente ciò che abbiamo fatto sul mercato aiuta, no? Almeno nella mia idea, nella mia testa, a migliorare la rosa del Napoli dell'anno scorso, a trovare comunque delle pedine che, ripeto, devono essere importanti sia per il presente che per il futuro. Quindi il fatto di aver preso, di aver acquistato Buongiorno, un giocatore molto ambito in Serie A e il fatto che abbiamo avuto l'appeal di prendere questo tipo di giocatore nonostante un decimo posto, questo ci deve dare la consapevolezza che facendo le cose per bene noi, anche da un punto di vista del mercato, potremmo avere più opportunità, cosa che magari quest'anno è un po' più difficile, no? Non facendo la Cempia, non facendo proprio l'Europa. Detto questo, ripeto, stiamo facendo le cose nella maniera giusta perché c'è stata molta chiarezza, no? Voi sapete benissimo, io ho chiesto chiarezza da parte del Club, il Club mi ha ribadito il discorso che noi comunque non cambieremo la nostra strategia, saremo la quinta, sesta squadra in classifica come Monte Stipendi, investiremo i soldi che eventualmente entreranno nelle casse per fare altri acquisti, se ci saranno cessioni. Quindi non cambierà assolutamente il modus operandi del Napoli Calcio. Io l'ho accettato di buon grado perché, ripeto, ho visto l'opportunità comunque con la base che c'è di poter fare delle buone cose, di rimetterci in careggiata per ricostruire qualcosa di importante. Il Roma e si prepara telecamere. Buon pomeriggio, sono qui, mister. Ben ritrovato. Lei sempre durante la presentazione a Palazzo Reale disse prima del contratto col Presidente De Laurenti si gli ho ribadito che qui comando io e si riferiva al veto della cessione di Di Lorenzo e di Quara. A quanto pare ha avuto ragione lei perché Di Lorenzo ha scritto una bellissima lettera rinnovando il suo amore verso il Napoli e Quara credo che non ci siano problemi per la sua permanenza in Azzurro. Sì, ecco, chiariamo il discorso del cui comando io. No, no, nel senso che della squadra che deve rimanere dell'aspetto tecnico e gestionale dei ragazzi sicuramente io devo avere voce assoluta in capitolo. Questo è chiaro. Un grande merito va al club, ripeto, perché poi alla fine il club ha agito nella giusta maniera. Stavamo parlando comunque di due ragazzi e due ragazzi per bene perché stiamo parlando di Lorenzo che l'anno scorso si era legato a vita, no? Nel contratto con il Napoli. Ecco, torniamo al discorso della grande delusione, no? Quanto può infettare poi una grande delusione? Ecco, diciamo che io sono stato un equilibratore su questo. Ho riportato equilibrio nella delusione. Ho cercato di far capire che non potevamo buttare a mare anni e anni di lavoro per di più due anni prima in cui avevamo vinto uno scudetto. e su questo ribadisco il club è stato bravo. È stato bravo perché ha agito nella maniera giusta, ha agito come doveva agire. E di questo va dato onore al Presidente, va dato onore al club senza girarci tanto. Mister, capisco perfettamente che abbiamo iniziato il lavoro da due giorni. Capisco che il mercato è ancora aperto e sappiamo benissimo che mancano ancora i nazionali. Però prova ad andare sul campo. Lei nella prima conferenza ha parlato di soluzione a quattro e soluzione a cinque. Vorrei approfondire un po'. Quando mancherà un centrale difensivo e quindi ci sarà la soluzione a quattro? Quel giocatore lì cosa diventerà? Il terzo centrocampista o il quarto attaccante e se fra le due soluzioni dopo che mi risponde alla prima se fra le due soluzioni ce n'è una, cinque o quattro che lei ritiene prevalente sull'altra? Guarda, se vogliamo parlare da un punto di vista tattico ecco, noi lavoreremo su un tipo di costruzione che può essere utilizzata sia giocando a quattro che giocando a tre. Quindi questo deve essere chiaro. Ma perché lavoreremo su un'unica costruzione? Proprio perché nel momento in cui ci sono alcune partite o comunque si deve iniziare per ridare un po' anche un minimo di equilibrio visto che prima nei dati era emerso che eravamo l'undicesima peggior difesa dell'ultimo campionato si possa iniziare in una determinata maniera per dare delle certezze e al tempo stesso durante il campionato ripeto l'opportunità di non cambiando il tipo di costruzione cambia solamente il tipo di pressione che tu vai a fare perché può diventare un 4-4-2 invece di essere un 3-4-3 ecco come situazione. Si è un altro attaccante o comunque un 3 quarti un centrocampista ecco nel senso che alla fine anche quando tu ti metti con un 4-3-3 vuoi fare una pressione alta è uno dei due centrocampisti che si alza vicino all'attaccante no? se giochi con un numero 10 con un 3 quartista o con un attaccante come Raspadori è lui che si alza a fianco alla prima punta ecco avendo due esterni due centrocampisti e i 4 dietro abbiamo fatto anche il tipo di mercato in funzione anche proprio di questa idea perché buongiorno un giocatore che ti può giocare a 4 ti può giocare da centro-sinistra o da centrale a 3 non dimentichiamo che abbiamo Olivera che lo vedo anche da centrale da braccetto di sinistra e anche a 4 da terzino-sinistro lo stesso di Lorenzo ti può giocare da difensore centrale a 3 o esterno di fascia detto questo cercheremo di valorizzare le caratteristiche dei calciatori che valorizzare le caratteristiche dei calciatori significa dare spazio alla qualità di 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 politano bravissimi dell'uno contro uno lo stesso l'instrom e siril andonghi che in cui cercheremo ecco di di attaccare in una determinata maniera dare anche più libertà a a questi fantasisti anche di giocare dentro ecco perché hanno le qualità è inevitabile che quando vengono dentro c'è qualcuno che si apre quando loro stanno fuori c'è qualcuno che viene che viene dentro ecco quindi diciamo che anche dal punto di vista tattico è molto chiara la situazione deve essere una squadra molto intensa perché comunque dovremo essere molto intensi non voglio una squadra passiva voglio una squadra che comunque la partita la voglia fare poi torniamo sempre al solito discorso noi quando parliamo possiamo fare gli scienziati e dire vogliamo essere dominanti propositivi tutte le cose poi però affronti un'altra squadra che è più forte e ti mette dietro che devi mettere l'elmetto e ti devi difendere perché anche questo lo dobbiamo dire no? ecco perché ripeto parliamo poco io simpatisco meno proclami facciamo più sarà bello eventualmente sorprendere ecco questa è la cosa che noi dobbiamo però anche dal punto di vista del mercato stiamo facendo delle scelte proprio per avere l'opportunità di decidere che tipo di situazione senza portare scompensi alla fase di costruzione o alla fase di aggressione Calcio Napoli 24 e si prepara Napoli Magazine Buon pomeriggio mister leggo anche io a questo discorso il resto abbiamo parlato di difesa e un po' dei movimenti in attacco le chiedo in questa sua idea tattica in questo suo credo se ipotizza e va bene per lei una coppia a centrocampo come quella attuale Anghisalo Botka prima ha citato Zilischi che mancava o se si aspetta dal mercato un centrocampista e di quali caratteristiche certamente non il nome ma capire insomma in che direzione va il centrocampo quindi che centrocampista crede che di avere bisogno perdendo Zilischi e aggiungo a questo se appunto in questo discorso Gaetano e Foloruncio che non ha ancora visto sono valutabili per restare in rosa grazie guarda io lo dico senza senza mezzi termini io penso che la coppia lo Botka Anghissà sia una delle coppie più forti in assoluto che oggi ci sono a mio avviso detto questo ho avuto modo di vedere Frank oggi sì per giocare a due secondo me per di più ho visto anche nella parte finale del campionato sono stati utilizzati in quella in quella maniera con un centrocampista che esalzava spesso era Cajuste dietro di loro abbiamo Cajuste che devo essere bravo a tirargli fuori un po' di 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 cattiveria ecco perché è un ragazzo che secondo me ha delle potenzialità importanti sotto tutti i punti di vista e poi ci abbiamo anche Foloruscio io lo vedo in quella posizione perché secondo me è un calciatore che in quella posizione può diventare un calciatore importante è inevitabile che ci dovrò lavorare adesso abbiamo fatto solamente due giorni di allenamenti però diciamo che c'è c'è un'idea c'è una visione è inevitabile che poi durante questo ritiro il prossimo ritiro io debba fare delle valutazioni su alcuni giocatori mi è stato chiesto di fare delle valutazioni su alcuni giocatori le farò di mia spontanea volontà se eventualmente vedrò delle delle situazioni da correggere lo stesso Gianluca Gaetano un giocatore che sono curioso di di vedere poi capisco anche che che ci sia la la voglia da parte di alcuni ragazzi soprattutto chi magari ha giocato meno negli anni passati di volersi mettere alla prova capisco tutto ecco però cercheremo di fare delle delle valutazioni attenti appena iniziato il il ritiro so per certo ecco i calciatori devono sapere per certo una cosa che comunque a fine stagione diventeranno dei giocatori migliori questo devono sapere sotto tutti i punti di vista cercheremo di fare una squadra una squadra ecco che che dia fastidio ecco noi dobbiamo dare fastidio ma guarda in questo momento in questo momento avendo da visionare ancora Floruscio sto sto visionando bene Gianluca Gaetano in questo momento non c'è in previsione in questo momento un centrocampista dovesse uscire poi qualcuno sicuramente faremo delle delle valutazioni ecco salve mister sono qui Adriano Pastore Napoli Magazine le volevo chiedere proprio relativamente a diventare calciatori migliori alla fine di questa stagione pronti via partire bene quindi scrollarsi di dosso come diceva lei prima anche la delusione quanto può essere importante quindi per per portare poi i ragazzi a fare una grande stagione partire bene sicuramente da morale da fiducia in tutto quello che stai facendo ho detto questo ho visto partire a razzo e finire non voglio dirlo quindi diciamo che sicuramente sarà importante sarà importante partire bene per l'entusiasmo però ripeto non è questione di entusiasmo è questione di lavorare di lavorare bene di fare le cose per bene di creare qualcosa che sia strutturata per tutta l'intera l'intera stagione poi ognuno di noi vuole partire a 2000 questo è fuori dubbio perché anche nelle staffette o nei 100 metri chi parte stacca prima ha possibilità di fare delle cose importanti come come ho detto prima iniziare assolutamente bene poi devi mantenere la situazione quindi diciamo che sarebbe più per la fiducia per l'entusiasmo che si credebbe però ecco è inevitabile che vogliamo iniziare bene questo chiaro RTL 125 buon pomeriggio mister innanzitutto sarà stato un caso ma l'altro giorno quando siete arrivati il primo a scendere dal pullman è stato Lele Oriali una leggenda del calcio allora le chiedo che ruolo avrà Oriali e che cosa demanderà a lui rispetto al lavoro che dovrete fare grazie guarda Lele Oriali abbiamo avuto il piacere di conoscerci in nazionale quando io ero stato nominato commissario tecnico e mi è stato chiesto di essere affiancato di una figura ecco mi è stato chiesto anche se avevo qualche amico tra i calciatori ho detto guarda a me non interessa amicizia a me interessa che arrivino delle persone serie e allora mi è stato proposto Lele Oriali dal presidente Tavecchio e devo dire che dopo dieci minuti di colloquio ho detto al presidente è lui la persona giusta quindi noi abbiamo siamo partiti insieme nazionale poi io sono andato al Chelsea quando sono tornato all'Inter l'ho riportato con me all'Inter per andare di nuovo un'altra volta in esperienza a Londra e poi una volta arrivato a Napoli ho chiesto che che mi accompagnasse in questa in questa esperienza quindi va anche dato grande c'è grande risalto al fatto che comunque cioè Lele è una persona che potrebbe stare pure a casa sua con i nipoti con le figlie e invece ha accettato di di buon grado con grande entusiasmo di venire a Napoli di fare questa esperienza insieme a me è una persona è un po' il mio braccio destro nella gestione quindi anche con i calciatori io chiarisco bene qual è la posizione sua a parte che la chiarisce da solo non c'è bisogno come come situazione è una persona che ha scritto la storia è una persona molto conosciuta nel calcio che conosce tempi che ha fatto il dirigente in passato ed è una persona fidata poche parole ma tanti fatti ecco come come piace a me quindi è una persona che che mi aiuterà nella gestione con i ragazzi che al campo guarda lo stesso anche con con i dirigenti con il presidente quindi è una persona per me molto molto importante e sono la cosa che mi ha fatto veramente piacere che è venuto ecco con con grandissimo entusiasmo ad accompagnarmi in questa in questa sfida vincente ecco canale 21 ecco sì ecco sì buonasera mister ok allora conosciamo il credo calcistico no l'intensità l'ha detto però siamo anche incuriositi dalla preparazione fisica che tra le altre cose l'anno scorso non è andata proprio bene allora le chiedo qual è stato il suo impatto rispetto a questi giocatori che sta allenando chi sta rispondendo e soprattutto sono incuriosito anche da Io-Yo Test che è un qualcosa anche che mi ricorda Gian Piero Ventrone se sono stati già fatti io non li ho visti magari si faranno in corso d'opera sì lo faremo in corso d'opera lo Io-Yo Test diciamo che l'altro ieri appena siamo arrivati abbiamo fatto un allenamento diciamo per smaltire un pochettino il viaggio che abbiamo intrapreso al mattino poi due ore e mezzo con il bus quindi diciamo che ieri abbiamo iniziato a lavorare in maniera giusta chiaramente con l'approccio perché l'approccio non può essere subito un approccio tostissimo anche se magari l'approccio anche soft per qualcuno può sembrare già tosto e abbiamo iniziato a lavorare sia da un punto di vista tattico che da un punto di vista fisico ho trovato nei ragazzi sicuramente grande disponibilità e cercheremo di cercheremo se tu vuoi fare un calcio comunque intenso aggressivo ce lo devi avere nelle gambe altrimenti rimane solamente un'ipotesi di idea e quindi cercheremo di lavorare ma ripeto di lavorare il giusto qua nessuno va a fare delle cose io penso di aver lavorato veramente tanto da calciatore sto parlando di vent'anni fa e veramente penso che non c'è proprio paragone oggi il lavoro fisico che viene fatto con quello che noi abbiamo fatto in passato quindi quando a volte mi chiedono i calciatori ma lei o mi chiedono di campioni di numeri dieci importanti ma è possibile che facevano queste corsi le facevano le facevano le facevano perché questo è quindi stiamo lavorando è inevitabile che c'è una metodologia ci vorrà un periodo di adattamento anche questa metodologia però è una metodologia che ha sempre dato dei grandi frutti e quindi cercheremo di portarla avanti includendo in questo metodo anche un miglioramento proprio a livello di stress a livello di fatica a livello di resilienza queste sono ecco tutte situazioni che forse ultimamente non si stanno più lavorando salve mister Francesco Molaro delle club Italia lei parla sempre in prima persona anche dello scorso anno e questo ai tifosi è piaciuto tantissimo e sicuramente avrà visto tante partite dello scorso anno adesso allenando questi ragazzi qual è il reparto che secondo lei deve essere risistemato da subito la prima domanda la prima risposta potrebbe essere la difesa però è chiaro che anche negli altri reparti bisognerà lavorare per non subire tanti gol come lei ha detto prima ma sì assolutamente perché non possiamo pensare subiamo 48 gol è colpa della difesa o del portiere è chiaro cioè è colpa della fase difensiva perché è una fase difensiva che magari è stata fatta in maniera ecco non è che non è stata fatta ma magari è stata fatta in maniera non feroce ok forse rispetto a a due anni fa in maniera un po' più superficiale diciamo no in maniera ecco però in maniera meno feroce mi piace di più ecco perché magari nell'anno dello scudetto c'era forse più attenzione più determinazione ma non perché l'anno scorso non c'era mentalmente uno si predisponeva a fare qualcosa ma non la faceva magari con la rabbia o anche con quella sana paura di dire adesso ci fanno gol perché a volte la vittoria ti porta ad essere ottimista ti porta ad essere un po' più superficiale nella cura del dettaglio e io dico il dettaglio a volte esposta soprattutto quando stiamo parlando di top club di club che devono lottare per obiettivi importanti i dettagli fanno la differenza ecco noi sicuramente dovremmo ritrovare quella quella ferocia che che calciatori avevano due anni fa di fare due fasi la fase offensiva e poi la fase la fase difensiva questa la dobbiamo ritrovare perché non lo dico io lo dicono i numeri i numeri dicono che l'anno scorso noi abbiamo preso 48 gol ed è impensabile se vogliamo tornare in Europa di prendere 48 gol cioè è assurdo di solito voi in base a quanti gol prendi finisci in classifica ecco come situazione ti chiedo di due calciatori Raspadori e Lindstrom accompagnati da subito da sempre da grandi aspettative chi per una ragione chi per un'altra hanno fatto tardi e finora non sono riusciti del tutto ad esplodere e hanno avuto un destino in comune perché si sono portati dietro l'interrogativo qual è la migliore posizione in campo per ognuno dei due per esplodere tu hai per Raspadori per Lindstrom già un'idea di impiego ti ringrazio e ti auguro buon lavoro per quello che riguarda Lindstrom io l'ho incontrato in Champions League quando col Tottenham lui giocava nell'Entracht nell'Entracht loro giocavano col 3-4-3 3-4-2-1 lui faceva uno dei due sottopunta o stando dentro oppure allargandosi in fascia e quindi cercheremo di rispettare le sue caratteristiche come per tutti gli altri per ciò che riguarda poi Giacomo per me lui è un calciatore che nella costruzione che stiamo lavorando e cui ho in mente sicuramente non può andare in fascia giocherà sempre dentro può essere uno dei due sottopunta come situazione sia che possa essere un 4-4-2 che possa essere un 3-4-3 quindi diciamo che cerchiamo di mettere i calciatori nelle migliori condizioni privilegiando le loro caratteristiche poi mi aspetto delle risposte questo è chiaro perché voglio delle risposte forti da parte di tutti quanti ecco Diego De Carli ma le chiedo questo lei in riferimento a 15 anni fa che ricordo ha di quel momento e soprattutto cosa ha potuto vedere notare di cambiamento dal punto di vista dell'accoglienza ma anche di infrastruttura in questi giorni anche degli investimenti che sono stati fatti sul campo e soprattutto anche a livello di palestra che ha un piccolo gioiellino a raso sul campo un grande investimento da parte del comune di Marfolgarida grazie sì diciamo che rispetto ai tempi al 2010 perché nel 2010 sono venuto insieme al Siena sono cambiate un bel po' di cose penso anche che il fatto di dover ospitare una società come il Napoli ma soprattutto tutto l'indosso prodotto del tifoso napoletano abbia vi abbia anche portato a migliorare un po' tutto tutte le strutture quindi a cercare di rendere quanto più gradevole la situazione non solo alla squadra ma anche al nostro tifoso questo io penso che sia stata un qualcosa di bello che è stato fatto è inevitabile che ripeto vedere tutta questa gente tutti tutti i nostri tifosi qui sentirli proprio vicino è qualcosa incredibile anche perché comunque il paese è molto bello ma è piccolino i tifosi sono veramente tanti ecco quindi questo questo va dato va dato merito a voi per l'ospitalità va dato merito al tifoso che al nostro tifoso che che le vacanze le viene a fare con noi grazie e arrivederci